Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi siamo in compagnia di Luca al capitolo sesto al versetto 36. Sapete che in quaresima appunto noi non leggiamo il Vangelo in modo consecutivo, ma ogni giorno insomma leggiamo di diversi evangelisti qualche pagina molto significativa, ecco, che ci aiuta a vivere l'essenza, ecco, di questo tempo, della quaresima. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Due versetti, ma due versetti che dicono il cuore del Vangelo di Luca, la misericordia, e dicono il cuore e la grande fiducia che Gesù ha nei nostri confronti. Cioè Gesù dice, siate come Dio, siate misericordiosi. Voi siete capaci di Dio. Voi siete capaci di misericordia. E allora non trattenetevi. Date, date, perdonate, siate misericordiosi. Questa cosa qui è molto bella, no? Gesù ci guarda, Gesù guarda a me, e dice guarda che tu sei capace di amare. Sei capace di dare misericordia. Sei capace di perdonare. Sei capace non solamente di farti calcoli, ma di amare senza misura. E non di misurare i gesti, le parole d'amore che fai. Questa è una cosa straordinaria, no? Gesù guardando ai suoi, insomma, ha questa capacità di vedere la possibilità. Ecco, dobbiamo imparare questo, perché quando guardiamo gli altri, invece di giudicarli, noi siamo chiamati ad avere il suo stesso occhio. Ad avere quell'occhio che vede nell'altro la capacità di amare. e poi date, date. È il verbo di Dio, dare. Dare la vita, dare se stessi, dare il tempo, dare le qualità. Mamma mia, scusate. Dare, 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 dare. Non c'è amor più grande che dare la vita. Ecco, noi potremmo dire Dio è colui che dà. E tu sei capace anche di questo. Scopriamoci desiderosi, bisognosi, di dare, in questa giornata. Le cose belle della giornata di ieri. Beh, ieri cito soprattutto abbiamo fatto una cena insieme a degli amici Dong, perché un nostro amico che è Dong Babicio ha fatto 40 anni la scorsa settimana e quindi è stato un bel momento per ritrovarci, ridere, scherzare, fare memorie di tante belle avventure che abbiamo già vissuto insieme. Ecco, ieri sera appunto non ho incontrato i giovani perché ero a questa cena. Ci siamo incontrati con gli animatori, stiamo preparando questa cena e mi piace insomma pensare all'entusiasmo che c'è sempre pensando dei progetti. Questa è una cosa è una cosa bella. Ale, buona giornata a tutti voi.